L'Associazione di Volontariato di Pubblica Assistenza Vopi non ha ricevuto dall'Asse di Salerno per le attività sulle postazioni del 118 di Campagna ed Eboli i rimborsi delle note spese relativi ai mesi di novembre-dicembre 2023 e gennaio-febbraio-marzo 2024. E' di Ponte Cagnano-Faiano. Si tratta dei rimborsi delle spese dei mesi di febbraio-marzo 2024. Noi effettuiamo servizi su Ponte Cagnano-Faiano, Eboli e Campagna. Il ritardo è accumulato e parte dal novembre 2023. Quindi abbiamo abbondantemente superato i 90 giorni. Anche perché un servizio del genere con l'anticipo di carburante, servizi, dipendenti, leasing, non si può effettuare così. Cioè non si può pretendere un'associazione di volontariato di anticipare tutti questi soldi. È improponibile. Quindi siccome sono soldi dedicati vorremmo sapere che fine fanno questi soldi e perché vengono bloccati. Qual è la motivazione? Perché c'è questa disparità tra noi e altre organizzazioni? Noi abbiamo sollevato questo problema ai sindaci e alla Prefettura. Ma vedremo se la cosa continua. Perché purtroppo dovremmo licenziare e interrompere il servizio. E poi un servizio di pubblica utilità. Ecco, una vicenda un po' particolare. Lei diceva, accennava al licenziamento. Insomma, il blocco di un servizio che è vitale. Soprattutto in questo periodo siamo in piena estate. Sì, si accumula tutto. Allora, non poter pagare i dipendenti significa non poter pagare i contributi. Ci sono le tasse, ci sono tutta una serie di cose che poi andrebbero a gravare ancora le tasse dell'ASL. Perché poi dovremmo fare un servizio di decreto ingiuntivo. Poi dovremmo fare un servizio che poi dobbiamo fare. Dobbiamo segnalare la cosa alla Corte dei Conti. Non sembra una cosa. E poi, diciamo, questi soldi sono dei cittadini. Sono fondi, ripeto, dedicati al 118. Qual è la motivazione che si fermano questi fondi? Grazie.